Mi siete arrivata una sconfitta contro la Roma, punteggio pesante 4-0, però va detto che l'espulsione è da lì che il match è cambiato radicalmente, perché è vero che la Roma aveva approcciato bene la gara, la USA stava tenendo, poi l'espulsione dal calcio di gode in poi è stata un po' in discesa per loro. Salve, buonasera a tutti, diciamo che non stavamo proprio facendo male, loro comunque ci tenevano sempre impegnati, ma anche noi avevamo fatto delle buone trame di gioco, comunque stavamo noi anche lì con Damiano, con Carlo Annante, poi dopo l'espulsione si è complicata un attimino la gara, l'espulsione del rigore si è complicata un attimino, loro buona squadra, lo sappiamo, è inutile stare qui a raccontarlo, Io posso solo dire bravo, bravi, bravi, bravi ai miei ragazzi, ci hanno messo il massimo, c'è da lavorare, c'è da recuperare un bel gap con Roma e qualche altra squadra, ma sicuramente promettiamo che questo gap sarà recuperato da qua a fine stagione. Io ho avuto l'impressione mister all'interno del match che comunque i tuoi ragazzi sono rimasti sempre in partita, al di là del punteggio poi finale, però non hanno perso la testa, sono rimasti dentro, concentrati, ci hanno anche provato effettivamente giocare uno in meno contro questi ragazzi della Roma, è stato complicato là davanti poter creare qualche azione da gol. Sì dai, è inutile girarci intorno, noi in settimana l'avevamo preparata come se una partita normale, non ci sentivamo e non ci sentiamo ancora oggi inferiori a nessuno e inferiori neanche alla Roma, per questo siamo rimasti in partita, hanno cercato i ragazzi di reagire, ma come dici tu 10 contro 11 non è facile, Non c'è da sottolineare, questa è la squadra che ha vinto lo scudetto due mesi fa, la Roma, quindi non è che giocavamo proprio contro nessuno, però complimenti ancora ai miei ragazzi e complimenti alla Roma. Mister adesso testa al prossimo match. Ah infatti già l'ho detto nello spogliatoio, ho detto pensiamo già al prossimo match che è Perugia, è inutile abbassare questa testa, avete la coscienza pulita di aver dato tutto in campo e quindi andate a casa, passate questa domenica quasi serenamente e pensiamo già al Perugia. Perugia Grazie ad una solita esperienza, la EDILIMA SRL Costruzioni si è sempre distinta nella costruzione di fabbricati civili e commerciali di pregio, col tempo ha ampliato la propria attività, trasformandosi in una ditta di costruzioni immobiliari, specializzandosi nella realizzazione di edifici residenziali e fabbricati industriali. La EDILIMA SRL Costruzioni, acquisendo sempre maggiori competenze, ha conquistato il suo punto di forza diventando leader nel settore, con risultati eccezionali per estetica e qualità, lavori accurati e soprattutto rispetto dei tempi di consegna. EDILIMA SRL Costruzioni di Nicola Imperiale, da oltre 40 anni, al servizio della gente, a Gragnano, in via Castellammare 149, telefono 081 871 5584 oppure 334 26 49 108. Grazie a tutti! Grazie a tutti!